...della sera, dove proiettiamo anche queste interviste, per vedere un po' quali sono tutti i tuoi... ...a che ora? ...e' il prossimo... ...lave giù... ...lave giù sattelare, dove vedo giù sattelare, dove vedo... ...apriteli! ...ciao mamma! ...lave giù sattelare, dove vedi... ...lave giù sattemiste, dal male da, dove vedi a morire sattemiste... ...a allora, dove vedi? ...sattemiste... Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti.